La questione è questa, noi non siamo contro al mercato, sappiamo benissimo così come l'abbiamo dimostrato sempre che il mercato è un elemento fondamentale in un paesino come Casamicciola. È chiaro che se il mercato è stato chiuso principalmente è dovuto al fatto del Covid perché sapete che in effetti ci sono stati dei regolamenti e delle condizioni da rispettare che hanno portato alla chiusura necessaria del mercato. Ma ancora prima ci sono stati dei rapporti dell'ASL, dei vigili fuoco e dell'ufficio tecnico che hanno portato alla sospensione del mercatino. Però nel frattempo si è arrivati a organizzare in un'altra area del comune di Casamicciola e nella sostanza già si era individuato in passato il parcheggio di Piazza Bagni un'area per poter organizzare comunque il mercatino anche perché poi al di là della necessità dei lavoratori ambulanti c'è anche la necessità per la popolazione per recarsi al mercato. Così come abbiamo deciso con il delegato Giovanni Barile e anche con la partecipazione dei mercatali perché poi su questo dobbiamo dare atto che c'è stata sempre sinergia tra l'amministrazione e i mercatali abbiamo individuato l'area come dicevo prima, l'area del parcheggio di Piazza Bagni e credo che per il 24 maggio possiamo anche dare questa soddisfazione nell'andare ad aprire un qualche cosa che la sentiamo tutti quanti quindi questo non è stata una conseguenza della manifestazione di stamattina ma già era intenzione del comune e proprio ammalo. Noi riteniamo invece questa manifestazione a differenza di quella che ha detto i sindi che è stata necessaria ed è stata positiva perché da questa manifestazione si è divenuta una decisione unitaria andando a individuare le problematiche che ci sono e quello che io contesto è il sindaco che è stato un sindaco raggioso in passato negli ultimi due anni marca delle difficoltà evidentemente per certi problemi che probabilmente sono politici all'area dell'amministrazione stessa e questa sta facendo pagare un prezzo enorme al mercatino di Casamicciola. Noi abbiamo accettato la proposta di Piazzetta Bagni entro il 24 maggio e non oltre inoltre ci tengo a precisare che se l'area di Piemonte della Misericordia ad agosto dovesse vedere, insiste, la fiera espositiva quindi ciò vuol dire che quell'area sarebbe stata risa idonea perché se un'area non può essere non idonea per un'antica commerciale e idonea per un'altra noi non esiteremo un secondo a prendere gli operatori e portare di nuovo a Piemonte della Misericordia.